Ebbene amici fratelli della congrega, dobbiamo sveltirci, dobbiamo svestirci, perché comincia a fare caldo, ci vuole sveltezza, ci vuole bellezza, ci vuole scaltrezza, destrezza, ci vuole un farò di totale sua recuperata pienezza. Oddio, speriamo si sveltisca il mio capo di datore a comunicare la recensione inerente e questa che è lunga la legge, chi stalker a chi, e si va a parlare nel quarto episodio, non è più lungo, vietatemi noi gli anni 18, su un tema scantoso, spinoso, scantoso, la pedofilia. Ora, rispolverando, sì sì, perché bisogna spolverare, no, spolverare ma anche rispolverare, caso, a caso, ripescai dei film da rispolverare. Io sono invaso, sì sì, da, come direbbero qui a Bulagna, dei cosiddetti burdigoni, che sono quei bestioni, quei scarafagge, sì, quei bestioni, come King Kong. Allora, non riesce nel nuovo pianeta delle scimmie, mie scimmie. No, puntiamola a ridere. Sì, perché è uno stand-up American, comunque questa figura è ricalcata un po' su quella del Joker, no, è un po' simpolo. L'episodio 6 si conclude in maniera astruggente, in un momento, e poi ci sarà nell'episodio 7 il finale sorprendente. Sto aspettando la maglietta del cobra, il cobra, no, è un serpente, sì, soltanto che non mi risulta, dal mio account creatomi, su un sito non vi dirò quale, intanto basta digitare cobra, stallone, too short, su Google, e rinderrete, non rispolverete, molti siti dedicati alle magliette stalloniane, no? Mi trovai in una situazione di stallone, sì, non tanto da stallone, più che altro da stand-lore, cioè da stand-lore, no? E la gente mi vide come personaggio stupido, dai stupidire ancora di più, che doveva, alle loro fantomatiche regole in partite, obbedire, di chiare. Io non obbedisco a nessun canone, non ho neppure il canone Rai, o forse sì, ma la tv non la guardo più, uh, uh. E allora, stavo cercando il libro Kik Botten, un partorito da una mente eternida di immaginazione, sconfinata, o che fu confinata, e anche la mia persona fu invalidata e indagata, cliccate su Amazon, c'è una recensione onesta, buona. Due, comprate, poi recensite, mi raccomando, in sede anche recensioni negative, perché più stroncherete e più mi rafforzerò nel ricrearmi, rigenerarmi, o auto-angariarmi, sì, perché sono masochista. Quindi Bologna è insanguinata e, ecco, una VHS dannata dal fallo recuperato a Kik Boxer, con questa capigliatura, il nuovo guerriero, ovvero Karl Lui, Eric Swan, S.L.O.E. E, comunque, non male quella buona attrice, Swan Harper, è un sito in una scena di BlackRide.com con Jason Brown. Io sono culturista, ha culturato anche delle buona attrici, e andrò a parlare lì, nel commissario F4. Sarà un'indagine penetrante a fondo? Una situazione, veramente, angosciante o eccitante? Caliente, forse, stupefacente. No, mi sono ripetuto? Non amo le ripetizioni. Comunque, poi, interroppiamo qua. E ho detto adotto, come disse Pepino de Filippo, campione di kickboxing accompagnato dal fratello Kurt, Kurt Cobain è morto, Kurt Russell, beh, anche lui, eh no, vola fino a Bangkok, assieme, quindi non prende la Ferrari, no, prende l'aereo, assieme a Giuseppe Ferreiro Rocher, no, Ferreiro, ta-na-na, fino a Bangkok, allora, per trovare un meglio avversario, ma l'avversario si rivela fin troppo potente e rompe la schiena, riducendolo, diciamo, sulla sede rotella, di nezzetto, diciamo. leggete, vi inserirò in miniatura, no, nel riquadro, negli ultimi 15, 20, facciamo 30, facciamo 20, no, secondi di questo video, il book trailer, cosicché potrete assaggiarne la trama, la sinossida, l'escritta mia, sì, rivelarne, no, rilevarne il potenziale e acquistarlo in maniera indelogabile, va acquistato, ma recensito, ma letto, ma letto, uno che rimane letto, sì, sì. Oramai è stato totalmente amputato, anche della sua virilità, chissà, eppure non si dimostrò un uomo di vittà quando affrontò Tom Poe, uno dei cattivi, più terribili, temibili a uomini evoli della storia, Tom Poe, sarà curto, è venato da un saggio maestro a cercare la vendetta, il maestro Miyake, da la cera, tolgo la cera, sì, e poi abbiamo delle battute di una sceneggiatura straordinaria, straordinaria, con Tom Poe, sanguili, sanguili come, cosa dice come maialin, 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 nel quanto l'ho posseduto. Il genere può non piacere, beh, è un degenerato, un depravento questo, ma Van Damme è spettacolare, giudizio tre stellette, durata cento minuti, genere avventuroso, avventuroso, che anno 1989, 1069, produzione USA, allora, lo so, molta gente, diciamo, è angosciata, da questo falco, che adesso inserirà, e sarà già qua, quando inserirò questo libro qua, accadrà, anche un'esibizione canora, dedicata, agli uccelli, ai gabbiani, qui c'è, chi c'è? il falco, il falco, no, c'è l'acula, l'acula reale, io ho avuto una vita principesca, talmente principesca, che anni fa, dove sapevo che mi ricoverarono, si si, mi inserirono, proprio socialmente, culturalmente, in un genere psichiatrico, però mi donarono la sfida, diciamo, era una sfida bella, e cominciai a scrivere, a scrivere, a scrivere, a riguardare anche il Kip Fias, nel libro uscito, tornavo a casa, reinserivo, diciamo, la voca S, e allora, tutto partì dall'avventura, diciamo, di Max Lebrot, poi mi sono andato all'avventura, di Marco Berlino, poi al Nexus, Sexus e Flexus, diciamo, sponzate, famo che ero già un genio, sono 14 anni, poi trovo dei ragazzi, con genitori, un po' handicappete, minorete, andavano a picchietti, andavano informanti, di quella che è la verità, se non la sanno, questa è la verità, quindi, diciamo, ho cercato subito, sin dal principio, di levare a pochette, che erano questi filmetti, quando si è ragazzette, non so, uno si identifica, Van Damme, che comunque, io ho sempre sognato di fare una spagetta, eh, quando voglio spacco, spacco tutto, tutte cose, faccio anche lo spacco, sì, 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 comunque la mia vita ha vissuto di una spaccatura, c'è questa fase blackout, no, e allora mi chiedi a scorsese, a Pochrader, che ritornerà un po', in la ruota al falofico, a Pochrader, col film, Caneos, James D, non la tora di gioventù, c'è la mia gioventù, c'è la mia gioventù, c'è la mia gioventù, la valle dell'Eden, ecco, Elia Kazan, questi sono gli ultimi fuochi, dice, ultimo film di Elia Kazan, non veniva dalla stessa, che cazzo sto dicendo, il falofico, non veniva a capire, quando parla, che cosa dice, anzi, non parlava dopo, l'avevano avuto, devi stare zitto, sei un pervertito, come tu un po', ti dobbiamo spaccare la schiena, e sai perché, perché tu non ti svegli, la mattina non ti rubi la schiena, devi coprirti la cosiddetta dignità sociale, diciamo, gente che a cinque anni era già in tesoro, poi si era anche iscrizzi, diciamo, a Louis Diem, sì, un genio ipocrita, che buonizzava il falotico, anche un po' pedofila, come questo, nel quarto episodio, però, insomma, apparteneva all'Unione Italiana League di Distrofia Muscorale, qui abbiamo uno muscoloso, mascolino, L-U-S-S-S-S-S-I? S? Sì? Così? S-G-S-S-S-L-S Musc-ens, From Munchelles. Chiaro? Questa è la esatta del pronuncio. Ci vuole spelling. B-R-U, X-I-L-L-L, l'-L di lasagne. L-N per tagliatelle. E di Empoli. No, E di Ingolad. e lungiatarini poi queste liceale, studiamo anche latino A-E rossa, rossa, rossa rosso di sera nel tempo si spera quindi oramai è calato in tramonto per questa gente che voleva montarmi mi dice se è montato vai via a peccato io proseguo questo enorme dono partendo alla famiglia Fautica è una famiglia diciamo che se ne fotte veramente nelle regole per imborghesirsi ora, non avete mai un cazzo né voi di quello che ha detto Bologna, mia città nativa città macchiata, si diragata dell'Ittma Gose l'ordata si generitasi nella forza ocezza dei più turpiati criminosi quindi riviste comunque con bravità delle riviste cinese riviste dagli occhi di un uomo smalitasi negli affrattori della sua rinascenza maestoso ma quant'ha questo valore sono i coscienti del DIP allora un escursus esistenziale trabocente quegli artico gran ghignolesco si può scrivere con la D la D di grande ovviamente la D di donna la D di grande sì sì c'è la D e gran ghignolesco o senza sì grottesco e pocacisco io non fui mai bocciato gli altri mi bocciavano gente che andava bocciata io sono anche sbocciato quindi siamo letto sono anche sboccato è chiaro? ricordate donna questo l'ha tutto invocato al contempo ironico e malignolico diluito in un pazzo uè come me? come te? ma comunque è un periodo di segre sì sì che c'entra perché chi fa da sé fa perfetto beh quando uno fa da sé può farsela alle dieci con la fantasina allora in un pazzo in tre c'è un l'homico che è partorito attenzione attenzione a voi che ci date sempre dentro che scopa da mattina alla sera pubblicità dei preservativi dei profilettici nel sesto episodio questo debbrenger no ha lo sbirrone sbirrone i bologni poi dicono ehi beh cosa c'è un anno una lice si fa le cieche non vado un cazzo se non metto più niente ecco non fare troppo lo sborone partorito ecco attenzione le donne possono rimanere incinta incinte ecco se lo utilizzerete utilizzatelo bene però in quel momento o fuoriesce o altrimenti entra con tutto schizzamento e poi so chezzi veramente sono un po' schizzato partorito da scatoliggini emozionali da gestrale meta fisica poi andando in giro no andando in giro vengo presso in giro dico presso in giro vengo presso in mezzo e ascolto discorsi di ragazzi anche laurelia ma hanno due tre lauree a proposito di De Filippo trattò Peppino la malafirmina la scena della lettera sono di letterati sono laureati di letteratura io invece scrivo scaramocchi non ho cultura sono analfabeta ascolto questi discorsi ti sei preso la laura la laura cioè laurea per dirla in maniera fotogliana e l'altra risponde no mi sono preso la Alessandra perché a Bologna di Don utilizza l'articolo determinativo da no è una preposizione semplice di Ardà di Bon Super Trafà poi abbiamo Super Carfranci lo stesso Proletoso Mary Poppins no l'articolo determinativo là dinanzi ha i nomi proprio femminili è chiaro? quindi abbiamo la Paola abbiamo la la Carla che non è un nome comune poi abbiamo l'amica di Kessel donna di grande cultura diciamo che fu sbattuta da marito ha avuto anche una figlia che volta fu sbattuta prima nel collegio fu sbattuta e si è fatta avanti a preparare le lasagne e volevo fare anche la cosa di culinaia no di cultura non si dice suocero si dice loro suocero ovviamente dinanzi al nome proprio maschile Stefano quale articolo determinativo si utilizza si utilizzerebbe si potrebbe condizionare condizionare dopo utilizzare il o lo allora il Stefano lo Stefano lo Stefano è stato lo Stefano è stato lo Stefano ma diciamo che Bologna è una città sicuramente fiore all'occhiello nella cultura no allora fu l'antresì prematuramente cosciente che il mondo non solo quello di Bologna è sempre stato pieno di misteri più inquietanti dei racconti del mio cugino Ivan poi un'altra cattiva tremenda di Ivan trago di rogo 4 quello si parte tutto cose poi il controllo stallone che è praticamente 40 cm più bassa è un esagerato di Dolph Lundgren è credibile perché se lui può cambiare se voi potete cambiare tutto il mondo può cambiare va bene consapevole anche che a Rende L'Homme fu e rimarrà anche la morte più intrigante più affascinante del parco stallone poi ci hanno un buon attore talone parco stallone vicino parco stallone sul quale ritornerei molte volte più avanti perché in quel parco lì ci sono dei pocci sì sì in quei pacchetti allora ci sono leggete queste notizie di Corona Canale che è commissario sai io indego ci sono questi guardoni come voi mi state guardando mi state giudichando poi c'è anche qualche pedofilo che fa lo stesso a bimbi allora ci sono le donne che nella pausa pranzo mangiano la porchetta del parchetto e poi arrivano questi porconi diciamo che si leggono diciamo notizie di stupri l'avete visto il film no una serie di film prodotto da De Niro When You See Pops riceveranno anche il premio questi poveri disgraziati accusati di stupro quando erano bambini sono diventati adulti sono state stuprate forse nel riformatorio gestito a Kevin Bacon di Sleepless la jogger di Central Park poi abbiamo avuto il film Ken Park di Larry Clark che c'è sempre lei è un porco è chiaro? comunque giornate capo otto bollenti quindi andrò al parco a fare che? a guardare il figlio degli altri con la gamba a cavallare si avvicinava una jogger con delle delle cosce ben utente e lei che fa? ma stavo guardando non si può no farò l'intellettuale la bugirà sai ho scritto questo libro del cazzo ecco sì un giorno ma sta venendo così sta venendo verrà subito lì un giorno io e i miei amici ci involeremo alla volta di Ashbul Park c'è anche Ashbul Park celebrando le innocenze in fronte di noi oggi sono uomini divenuti grandi perlomeno alla l'anagrafe rivendicando la nostra soffocata giovinezza candida attenzione la candida che molti non capirono quella cazzola la povere cazzola tintarella di luna tintarella color latte tu diventi cantata e purtroppo oscurata riscaturita o fumente o miei furfanti in mezzo a tanta stupida fottuta gente una bellissima giovedù mi piaceva quel film no la miglia giovedù è un film per la tua Marco Tullio in ciotane Pasoline c'è quel film di Marco Tullio poi tutti questi ricerari del cazzo che studiano quinto curfio ufo veramente quali sono i setteri di Roma allora sono Tullio De Pisco quello di andamento Tullio De Pisco Numa Pompino non è lui io sapevo Pompino una bellissima gioventurinata dalle nostre adolescenze malviste perché voi siete dei guardori guardate pure male vieni male ad occhiate da noi vissute sono di riflesso introiettate e ai noi inghiottite perversamente da un'inestirpabile malatissima assai va comunque malata forte questa stalker nella serie tv ma anche lui lo scherza si masturba su di lei proprio arriviamo a livelli di perversione di masturbazione eccezionale e poi sfonda praticamente la porta la sfonda c'è un rapporto diciamo di amore di forte ripenetrazione assai bastardo di imponda violenze nella vita basta con le violenze qui ci vuole cosa se arriverà questa cazzo di maglietta di merda l'indosserò perché mi piace quel film ma è un preghi fa schifo veramente diciamo che cinematograficamente come questo sono di quei film diciamo che imbollano che quando l'uomo diventa incazzetto incazzosso adesso voglio fare frasenti diciamo vorrei andare l'ingini straordinario con doppieggio di ferruzione negli states negli Stati Uniti sono dove a New York a Los Angeles comissare a farlo 4 e sarebbe andata a Los Angeles la città degli angeli povero diavolo povero diavolo che pena mi fa e adesso spogliati ah recano cucciate mi sono scucciato proprio donna dovete essere cinciate che cosa incoprono perché incoprono veramente come cattola grande con la tendere direzione e basta il direttore dell'università io ho avuto la facoltà di non frequentare nessuna facoltà in questo sono stato facoltativamente diciamo e non arbitrariamente ho detto una stronzetta no sono stato diciamo indirizzato dai miei genitori che non volevano indirizzarmi a niente mi dicevano guarda Stefano se sei così intelligente puoi anche prenderti la cazzo di Laura di Laura e mezzo basta che ti rizzi qualche volta devo confessarmi la verità non che mi incitasse in particolare però Jessica inzo sono due o tre seghe ma non è una mezza puttana togliamo mezza allora poca puttana la Bologna la Bologna la Bologna viene commesso un omicidio ogni settimana per cui la prossima vittima sarà il falò e chissà il carnificio uno stupro ogni mese e andiamo già meglio porteremo diciamo lo stupro a due mesi gli stupidi come diceva Maurizio Costanzo la Bologna è l'imbecide se è l'imicid e vabbè e avrete due libri del falotico due facciamo tre al plan tutto tutto quindi che posso dire adesso vi inserirò il caperio voi cercaste di capare me non non ingabirete ecco anche anche mi sono andato a imbappinare sul finale ma anche prima c'è stato un gioco di imbappinamento nei papori ecco Bull Shredder armei che sport si fa chiamare sport quello è uno dei più grandi di tutta la nazione quello vende la carne fresca di Maralini no di Jodie Foster Iris Iris è la vicina che roba il chiezzo Iris è una catagliazone dove vanno tutti questi mammagioni torniamo a questi grandi discorsi questi ragazzi ragazzoni uomini veramente l'altra sera ho visto una figa illegale illegale perché abbiamo le fighe legali abbiamo i cazzoni totali questo è un prodotto diciamo abbiamo quelli che hanno la sporca fedina penale la fedina penale sporca per creare il giochino dei rimati quelle che vanno a Roma tutte le strade può fare la Roma poi abbiamo avuto il tutoriale di Roma Alberto Sorde abbiamo avuto un 6 soldi anche i ciechi che volevano vincolare fatti dovevano avversi no dovevano prendere il diploma di scuola elementare no che già ce l'ha vinto quindi azzerriamo tutto questa generazione arrivata a 25 deve iniziare torniamo alla sigla col giuccio siete dei giucci siete starla ora starla non fu doppiato da Alberto da chi fu doppiato ferocemente no Olio fu doppiato da due doppiatori fra cui Alberto avrei una domanda della porla qui non c'è tottica ma tantone sa che significhi paniatone lo sa benissimo il tombo il tombo poi abbiamo il fiume no da queste parti un po abbiamo il po di buono abbiamo il po c'è come ho detto il paniatone abbiamo il lago maggiore che è il lago più grande d'Italia il lago di carta è il lago più grande lì vicino c'è carta poi abbiamo il milano di abbiamo abbiamo gli uomini mirabolanti abbiamo gli uomini strabilianti è un po' la stessa cosa abbiamo gli uomini scorgoranti strabilianti abbiamo i deficienti eh i deficienti stanno da per tutto uno vai in giro quello è un deficiente ma anche quello non scherzate quindi non scherzate come farò perché farò è veramente un uomo di cultura ma e poi indosserà la valletta il copra con danni stuzzichino si è chiesto stanno all'interno si fa ma ridendo così con lo stuzzichino e dirò al barista chiederò posso mangiare con lo stuzzichino e su questa stronzata il falò mi lascia mi lascia alle vostre misere siete misere 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 i fatti stanno così il falò lo sta qua e ci sono tanti qua 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 che credono veramente all'aldirà ricorda come dice al bacino in the table self che è una bocca che abbiamo qui sembrano più Luca Var Luca War che è doppio chiaro Reeves Joe Wick il diacolo io e Russell Crowe il mio segnale è scatenato in ferro io sto coi piedi sto coi piedi questo finale di video sta venendo veramente quando si dice un video fatto coi piedi io sto qui sto qui coi piedi cantati per terra insomma in questa faccia della terra alla faccia ha ho ho quello è un anno la faccio di dopo un anno ho ha ha comunque arti marziali John Wick poi Scott Higgins abbiamo anche il direttore della fotografia Roger Dickens che c'è di Dica Ducca Ducca Dica abbiamo i principi anche della risalta il principe di Gotham City Joker abbiamo Richard Ghira abbiamo Richard Gant questo qua di stasera qua abbiamo ripeto il fallo che sta qua abbiamo i faffaloni abbiamo quelli che giocano a calcio e non giocano di fair play ma commettono a falli praticano gli sgambetti abbiamo chi ti vuole ridurre sulla sede a rotelle oppure anche quelli che ti dicono tu non hai le rotelle ma dico guardate uomini guardate nello specchio siete belli ricordate che la pasta preferita alle donne la ricordate poi a un pacino Giancarlo Gianni torni torni il brazzo no e pasta e peselli se non ci sono i peselli neppure la pasta è buona ha e su questa stronzata di un uomo indiavolato assaltante rilascio e saluto da sola da parte e che cosa dobbiamo rifare benvenuta una stronzata un due tre e rizzazione c'è anche azione saluto da una sola da parte e basta 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 così basta quando siamo arrivati 20 o 8 minuti facciamo 30 minuti allora facciamo 30 facciamo 33 anni di Cristo facciamo 47 Marco di Parola facciamo Tommola facciamo Bingo facciamo Bingo Bongo Adriano Celentrano la gente ti vuole modellare come se tu fossi Pongo Pongo questa gente tal domanda dato che era ed è così intelligente perché offende vigiacamente da leoni da tastiera ecco queste persone il falò ma da vivo non salire e commettere le porcate che commette dito una tastiera ma è gente di gusto che sa tastare digitare gente di test gente che ha una grande testa quindi testa cazzo non dovete più rompe ecco più è chiaro perché è vero io non sono una persona normale sono anomalo ma mi piace essere o non essere questo è il problema un problema ammetico un problema falotico e su questo dubbio da ammeto vi lascio alla prossima